Benvenuti, siamo con il professor Dario Ianes, già docente ordinario di pedagogia e didattica dell'inclusione dell'Università di Borzano, corsi laurea in scienze della formazione primaria, cofondatore del centro studi Ericsson di Trento, per il quale cura alcuni collani, autore di vari articoli e libri e direttore della rivista Dida. Benvenuto professore. Benvenuto, grazie, grazie dell'invito, è sempre un piacere. Professor Ianes, la mancanza di docenti specializzati sul sostegno è una carenza ormai cronica. Con il decreto legge 71-2024, in questi giorni in fase di conversione in legge a parlamento, il Ministero ha provato ad avviare percorsi alternativi per coprire i buchi. Tuttavia sono in molti a chiudere questo provvedimento, in particolare i docenti che si sono formati in seguenti percorsi fino ad oggi in vigore. Ci spiega quali sono le criticità emerse? Qui dobbiamo partire da un dato, quella che viene chiamata la cronica mancanza di insegnanti specializzati, che è un dato drammatico, perché in alcune regioni del nord andiamo a oltre il 40%, per cui insomma anche dal punto di vista della scuola nel suo complesso, delle famiglie, ragazze e delle ragazze con disabilità, cioè non è accettabile questo discorso, mentre al sud sappiamo che è diverso, c'è questo squilibrio enorme tra richiesta appunto di cattedre e di incarichi di sostegno e di fatto quello che le università possono formare attraverso il TFA. Però magari su questo torniamo dopo, però il punto da cui io volevo partire è proprio questo, cioè il problema non è emergenziale o di quest'anno o dell'anno scorso, è strutturale, è strutturale nel senso che è proprio insito nella struttura che abbiamo dentro nel nostro sistema formativo nel dire ci sono gli insegnanti normali, diciamo, e ci sono poi quelli specializzati, come due mondi differenti, quando in realtà l'inclusione è un mondo, non sono due mondi differenti, è uno solo, cioè l'appartenenza al lavoro in una classe inclusiva, in una scuola inclusiva, che coinvolge tutti quanti, non si può dividere, bisogna unire. E allora se continuiamo strutturalmente, perché è un discorso strutturale, a tenere separate, voi siete specializzati, voi siete addirittura con classe di concorso specifica, per cui siete ancora di più costretti, tra virgolette, all'interno di questo ruolo, che è un ruolo separato e separante poi di fatto, in alcune, purtroppo, tante situazioni. E allora il problema è strutturale, non si può affrontare, come fa il decreto 71, in maniera emergenziale, come dire, oddio, ci siamo accorti che ci mancano 85 mila centri specializzati. Bene, ci siamo accorti che ci sono insegnanti che hanno preso il titolo in Romania, in Albania, in altre parti d'Europa che vogliono farselo riconoscere, noi non lo vogliamo riconoscere, c'è un contenzioso attivo, sono 10-11 mila, oddio, ci siamo accorti di questo, diamogli il titolo in questo, così, un po' con l'uno, quelli che hanno tre anni di servizio, che hanno fatto tre anni di supplenze, di incarichi, diciamo, sul sostegno, più questi del contenzioso. Se chiediamo loro di ritirare il contenzioso, noi imbarchiamo dentro un bel numero, non si sa quanti poi alla fine, perché sappiamo bene che da quanto si prevede a quanto poi si fa, il discorso non è proprio automatico e di conseguenza tentiamo di colmare questa lacuna, come se si facesse un passo avanti in un discorso inclusivo attraverso l'iniciante specializzato, cioè anche questa è una mitologia di fatto, perché noi potremmo avere con una bacchetta magica, noi specializziamo 85, specializziamo tutti, tutti quelli che prendono in carico sono specializzati, bene, ma se non costruiamo le condizioni di una classe, di una scuola inclusiva, non ci sarà inclusione, anche se li abbiamo super specializzati, perché se i docenti curricolari, i dirigenti, tutto l'ecosistema scuola è espulsivo, io posso averne anche 3, 5, 10 centi specializzati in una classe, ma saranno espulsi dal sistema, da quell'ecologia in quanto tale, per cui è un'operazione assolutamente destrutturata, perché non affronta il tema fondamentale, il tema fondamentale non è l'insegnante specializzato, è la scuola che deve diventare inclusiva, che deve avere una visione inclusiva e un percorso di formazione, di curricolari, di tutta, una paziente opera di inclusività, per cui a questa svista, questa visione parziale, il governo che dopo è stato approvato anche il Senato con la fiducia, il Decreto 71, dice io ci metto una pezza, per cui quelli che hanno 3 anni, quelli che hanno titolo all'estero, io attraverso un corsetto che è la metà, perché questo è di fatto la metà del TFA ordinario, a cui tra l'altro intri con le prove di selezione, c'erano i corsisti del TFA che sono incazzati come giustamente, perché ovviamente dice io ho fatto prove di ammissione e mi sto facendo vari mesi, almeno 8 mesi, con il tirocinio, con i laboratori, con la rilaborazione del tirocinio, con 9 laboratori, con 10 insegnamenti, con esami intermedi e dopo dall'altra parte il mio collega si fa 30 CFU online, mentre io me lo sbatto in presenza, tra l'altro con dei costi, anche non indifferenti, perché sappiamo che è una spesa importante, il mio collega se lo fa invece online comodamente, in che modo? E qui si apre un altro tema, chi li fa questi corsetti da 30 CFU? Chi li fa? E qui è interessante analizzare un po' la cosa, perché li può fare, allora inizialmente sembrava che solo l'indire fosse delegato a questo. Io mi ricordo le primissime reazioni proprio di indignazione da anche dei colleghi universitari che dicevano, ma scusa, l'indire non fa queste cose qua, le facciamo noi che facciamo i TFA da 60 crediti, l'indire non li fa, e perché va a fare queste cose l'indire che non ha, no? Fa tante cose bellissime in indire, ci mancherebbe altro, ma questa roba qua, di dare un titolo di specializzazione non è il suo, no? Non è il suo lavoro. Ecco, professore, l'interrompo un attimo perché era proprio una delle domande che le volevo fare, era proprio questo aspetto qui, perché questi corsi indire, che di fatto sono stati equiparati ai corsi del TFA sostegno, ma è corretto questo tipo di approccio formativo, appunto, dove ci sta accennando e in che cosa si differenziano, soprattutto un indire che, se non erro, è stato anche commissariato. Allora, qui c'è, bisogna appunto, grazie della specificazione, così andiamo a approfondire questo discorso. Allora, inizialmente sembrava solo l'indire, poi in realtà nel testo si vede che sono tre possibilità, perché una è che l'indire autonomamente si fa i suoi corsi, un altro, che le università, come grande categoria, autonomamente si facciano i corsi a 30 crediti, corsi dimezzati, e che anche possano farla come terza opzione in convenzione tra università e indire. Allora, partiamo dalla terza opzione. Cosa ci guadagna un'università X a fare la convenzione con l'indire, se può farlo autonomamente? Io immagino, perché è solo burocrazia, no? Che si mette in moto. E io immagino che un qualunque rettore, immaginiamoci, di un'università X, dica ai suoi uomini o alle sue donne che fanno il TFA da 60 crediti, oh, noi possiamo farcelo. Dunque, facciamolo. Perché non dobbiamo farlo? facciamolo. Tanto voi fate i 60, avete già la progettazione rodata ormai da 9 cicli sui 60 CFU, mi sparate fuori un corso online da 30. Così incassiamo. Incassiamo perché c'è una bella torta da dividersi, ovviamente sempre a spese del precario caccia i soldi per fare un passo avanti nella sua carriera, ci sono almeno 120-125 milioni da spartirsi. Allora, è chiaro che gli atenei più dinamici, e qui metto in conto anche che le telematiche, le telematiche che sono tendenzialmente dinamiche su questo, che già fanno i 30 CFU per l'abilizzazione secondaria, possono dire, vabbè, ma noi abbiamo già una dimensione online potente e subito saremo fuori sul mercato. Appena uscirà un altro decreto ministeriale che dica, che dovrebbe dire, questi sono i contenuti essenziali di questi 30 CFU, eccetera, vabbè, e lì tutti entreranno sul mercato in maniera assolutamente diretta. Io credo, immagino, rispetto all'opzione indire, che l'indire spiazzato da questa cosa abbia pensato, non mi ci metto neanche a fare questa cosa qui, quando ci sono le università che già hanno tutto il loro apparato per farlo, per cui abbia manifestato, questa è una mia supposizione, non ho alcun tipo di dato per dirlo, abbia manifestato qualche resistenza. Allora a quel punto sei resistente e ti commissario, nel senso che ti faccio un a zero, quelli che sono gli organi, faccio un commissariamento di modo che tu possa, anche ridefinendo lo statuto, eccetera, legittimamente dare questi 30 CFU. Però è un'operazione, ma al di là della discutibilità, ma al di là di quello, i tempi sono tutti sbagliati, perché ora che io metto in moto un commissariamento di un ente, appena esce il decreto sui 30 CFU abbreviati, le telematiche sono già fuori, per cui mi hanno già preso tutto il mercato, mi hanno già preso tutto il mercato, inutile che dopo mesi e mesi tra commissariamento, rifare lo statuto, arriva anche autonomamente l'indire, ma tutte le persone che hanno un titolo per farlo, l'avranno già fatto. E poi c'è un'altra grana, comunque, perché ci sono quelli che sono nel TFA, gli insegnanti che sono nel TFA ordinario e che avrebbero però le condizioni per fare, avrebbero i tre anni di supplenza per fare l'altro. Allora potrebbero dire ai loro TFA ma io vado nell'altro, perché l'altro è 30 e qui sono 60. E a che punto sono col pagamento della retta? E quanto mi costa l'altro? C'è tutto questo ambito assolutamente inconosciuto, sconosciuto, che pesa anche su questa cosa. Io sono convinto assolutamente che quando si mette mano ad un campo così delicato come la scuola, il precariato, la formazione, la specializzazione, bisogna già uscire con tutto, non che dopo aspettiamo un'altra cosa, dopo aspettiamo un'altra ancora. Devi uscire già con tutto, la situazione è questa, però sappiamo che il nostro paese non è così, infatti adesso ci sono tutte le manifestazioni, ci sono tutte le critiche ovviamente, le prese di posizione, la petizione contro, insomma c'è tutto un movimento soprattutto sostenuto da chi è nella condizione di precario e dice qua, mi trovo in una condizione di scarsa qualità dell'offerta, ma scarsa qualità non tanto perché, ma perché scusa, da 60 passi a 30 è esattamente la metà e poi in presenza con i laboratori, con il tirocinio mi passi tutto online, cioè come… no? Ecco, proprio su questo tema, visto che lei già ci ha fatto il quadro della situazione e ci ha fatto capire un po' quali sono i percorsi, una mia domanda era proprio questo, cioè telefonati, mezzati e titoli esteri e sanati con corsi integrativi, ma non rischiamo un impoverimento formativo che poi si tramuta in una maggiore difficoltà a gestire gli alunni bisognosi? Ecco, sui corsi esteri, no? Sui corsi esteri anche qui è interessante, no? Perché i corsi fatti in quegli stati, in quelle nazioni, dove non c'è inclusione, io mi chiedo cioè qual è il senso, no? Perché se io mi vado a specializzare in neurochirurgia, diciamo vabbè, tu vai in Kazakistan, piuttosto che negli Stati Uniti, piuttosto che in Francia, piuttosto che in Etiopia, tecniche di neurochirurgia, apri il cranio, no? Apri il tuo, bello, pulizzo per aprirlo, si fa anche facile e lì trattiamo l'operazione. Diciamo vabbè, i pazienti in Kazakistan e in Etiopia saranno più o meno simili, no? Cioè mi specializzo in Kazakistan, dopo opero in Italia. Ma sull'inclusione il discorso è diverso, perché lavori in un'ecologia di scuola complessa. Allora com'è la scuola in Albania? Com'è la scuola in Romania? Com'è la scuola dove tu acquisti un titolo di specializzazione per la digitazione? Allora, ho ammesso che le persone poi abbiano frequentato qualcosa, cioè io qui ammetto sempre che le persone abbiano frequentato un numero congruo di crediti, di ore, di lezioni, eccetera. Ammesso questo. Ma i contenuti quali sono? Saranno contenuti in cui qualcuno gli spiega cos'è la sindrome di Down, qualcuno gli spiega cos'è la parola di cerebrale infantile, qualcuno gli spiega. Ma questa non è inclusione, questo è solo un piccolo pezzo di un discorso inclusivo. Inclusione vuol dire costruire una didattica inclusiva. Ma se c'è la didattica speciale, ce lo fai fuori in classi suori speciali, cioè che tipo di insegnamento può arrivare? Cioè è proprio una cosa che non ha alcun senso, non ha alcun senso. Per cui sarà anche lì da ridere vedere un altro successivo decreto secondo il numero 71 che dirà i requisiti con modalità di riconoscimento, cosa dovrei fare per integrare, eccetera, eccetera. E anche lì sarà un po' un teatro su questo. Perché questo riconosco, questo no. Perché sarà anche lì molto… e non vorrei essere nei panni degli atenei che faranno i 30 CFU e dovranno riconoscere. Anche lì sarà, io immagino, una sanatoria alla fine. Però anche questo è chiaro che è un abbassamento pazzesco. Il rischio è più lì dell'abbassamento che non nei 30 abbreviati fatti dall'Università X che fa già il 60. Perché allora in buona fede l'Università X che fa già il 60 dice io trovo le cose essenziali, mi concentro, riesco a supplire magari quelle che sono attività di tirocinio con qualche laboratorio interattivo, costruisco delle cose che mi diano, come dire, che quei 30 siano effettivamente fatti bene. Allora dicevo, beh, lì perdiamo qualcosa ma non perdiamo tutto. Ma, dall'altra parte, se c'è un riconoscimento indiscriminato, lì effettivamente la qualità io credo vada assolutamente a picco. Credo, però dal punto di vista della famiglia, la parte che i genitori possono, in base a loro gradimenti, chiedere la continuità dell'insegnamento di sostegno. E allora gli chiedo, è giusto che siano i genitori, in base al loro gradimento, proprio a fare questa scelta, chiedere la continuità dell'insegnamento di sostegno? Ecco, allora questo è un punto particolarmente importante perché io credo che sia stata un po' la merce di scambio, no? Per fare in modo che le famiglie accettino i corsetti dimezzati, quando si sono lamentati da sempre che i corsi di 60 non funzionavano perché non davano tutte le conoscenze, le competenze necessarie, adesso mi accetti i 30. Come mai mi accetti i 30? Mi accetti i 30 perché in cambio ti do questo piccolo potere nell'esercitare il mio gradimento, la mia richiesta, no? Cosa direi, no? L'insegnante Fabio mi piace, lo stimo, lo vorrei ancora per mio figlio. Bene, allora io faccio questa proposta, il dirigente può accoglierlo meno, allora io posso essere minaccioso, diciamo, no? Nel fare questo perché minaccio di creare problemi, allora esercito un potere più grande, ma altrimenti non è un grandissimo potere quello. E poi c'è un'altra questione che mi fa dire che non è proprio del tutto positiva questa cosa, anzi per me non è affatto positivo questa cosa, perché le dinamiche nella scuola devono essere della scuola, non può essere la famiglia che si mette. La famiglia deve essere esigente sicuramente sulla qualità dei risultati per il proprio figlio. Come dire, ma io lo mando a scuola perché impari un sacco di cose, perché stia bene con i compagni e perché sviluppi senso di appartenenza. Questa è la mia inclusione. Come vi organizzate voi a scuola? Se confermi quello dell'anno prima, se ne metti un altro, se ne metti due, se ne metti tre, se non ne metti nessuno, se fai lavorare i compagni. Questa è una questione tua, è la tua professionalità, è il tuo mondo. Io non entro in questa cosa qua, perché altrimenti si sviluppa, si conferma l'idea che il mio insegnante Fabio è mio, è per mio figlio, non è per la classe, per l'inclusione, è per mio figlio. È come dire, è un assegno che mi viene intestato a me. Dunque, se questo assegno mi va bene, l'anno prossimo lo voglio ancora, ma perché? Non ha alcun senso, perché si confonde ancora una volta il mezzo col fine. Allora, l'insegnante Fabio è uno dei tanti mezzi per produrre inclusione per mio figlio, perché ci sono compagni di classe, curricolari, pidel, c'è tutto un complesso di situazioni che deve diventare inclusivo, perché mio figlio porti a casa effettivamente quei risultati. Su quei risultati io valuto il percorso scolastico. Qualche valuto Fabio o Giuseppe o Maria? Cioè, valuto attraverso i risultati sul mio figlio. Come si organizza la scuola? Questa è un'autonomia della scuola. E invece, se io trasformo il mezzo, insegnante tal di tali, simpatico, carino, eccetera, col fine, allora mi diventa la conferma di quell'insegnante carino, simpatico, il fine è che io voglio quello, no? Voglio quello. Poi c'è un'altra questione, una questione che si possono instaurare delle dinamiche non particolarmente evolutive. Nel senso che se io voglio essere riconfermato all'anno prossimo, perché è una sede che mi va bene, io cercherò di sedurre tra virgolette il genitore, in modo che mi fa... Allora farò tutta una serie di cose che non sono finalizzate proprio, no? Perché posso, per dire, indulgere in alcuni atteggiamenti, no? Essere più, no? Ma anche addirittura, adesso, sono delle illazioni, queste evidentemente non hanno alcun valore, ma posso, per dire, trasformare la realtà in modo che quel genitore veda, no? Delle cose bellissime, di caporca miseria, che bravo, no? Questo insegnante, lo confermiamo, no? Allora, si possono creare dei meccanismi, diciamo, collusivi di alleanza perversa, oppure può essere il contrario. Può essere che io, genitore, non faccio fatica ad accettare un insegnante perché è severo, chiede a mio figlio delle cose, chiede anche a me, genitore, magari delle cose scomode, mi è un po' scomodo, allora a quel punto dico, no, no, io non lo gradisco, no? Cioè, questo gradimento, cioè, è un... non credo che sia un elemento positivo. Altro è la continuità. La continuità è un altro discorso, direi, in alcuni casi è un'ottima cosa, in altri casi non è... non è necessaria, non è neanche utile. Quello che deve essere garantito è la continuità, diciamo, la coerenza di un sistema che se anche mi cambiano metà degli insegnanti, comunque un percorso inclusivo venga portato avanti. In molte scuole ti cambiano gli insegnanti sostenibili, cambiano anche altri, gli altri docenti. Allora è il sistema collegialmente, il collettivo che mi deve garantire la continuità, non tanto il singolo insegnante, altrimenti, ripeto, torniamo dentro nella logica della proprietà privata, siccome mi piace, lo voglio ancora, ma non... no? Non è... no? E si potrebbero creare anche dei conflitti di fatto, perché io, genitore, dico, Fabio mi piace perché mi piace, però gli altri genitori, siccome Fabio, in teoria, è rivolto anche alla classe, gli altri genitori potrebbero dire, ma a noi Fabio non piace. Allora, chi esprime il gradimento? L'utente papà o mamma con disabilità o gli altri? Cioè, dai, non ha senso. Il gradimento lo puoi fare se tu vai a comprarti una camicia in un negozio o nell'altro, ti è più gradevole uno, sei libero, vai a comprarti di là piuttosto di di qua. Ma in un servizio, in un servizio pubblico, cioè, com'è che esprimi il gradimento su chi guida l'autobus, su chi, no? È il servizio che deve garantirti la qualità e dipende dal fatto che l'autobus lo guidi Fabio o Maria, insomma, non ha senso. Per cui, secondo me, questo è un altro scivolamento, diciamo, del discorso. Grazie, professor Giannis, per essere stato con noi. Grazie a voi e in bocca al lupo. Grazie a voi.